Allora, il totale sono state 19 biciclette per un valore di 34.000 euro e sono entrati alle 2.04, che poi è la telefonata che è scattata con l'allarme. Hanno agito in questa maniera, sono entrati con i due mezzi, un furgone di grossa cilindrata, molto grande per caricare poi 19 biciclette, una macchina di grossa cilindrata, identificata come un Audi 6, ed erano 7 membri, tra cui uno faceva il palo all'ingresso del negozio e una volta che hanno aperto la serratura e bloccato anche la porta del... Voglio vedere, perché poi i ladri, pensando che il padrone, il titolare del negozio abitasse qua sopra, che cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Hanno fatto una semplicissima manovra geniale, bloccandolo poi all'interno. Quindi lui, anche scendendo, non è potuto riuscire ad aprire la porta. Suonando l'allarme, oltre a me suona anche a mio fratello, ci siamo chiamati per capire se era veramente scattato l'allarme, avendo un allarme volumetrico. Abbiamo chiamato Daniele, che è il padrone di sopra, infatti ci ha confermato dell'avvenuto purtroppo e del furto che abbiamo subito e ci ha anche confermato i mezzi che erano qua davanti al negozio e la direzione che hanno preso. Abbiamo pensato di non venire su proprio ad alta velocità, ma di vedere se riuscivamo a vederli in superstrada, visto che erano diretti verso Fano. Mio fratello, che era poco più avanti di me, lui non li ha notati. Io invece, mentre andavo su all'altezza della galleria di Fossombrone, ho notato dall'altra parte che venivano giù ad alta velocità il fungone e anche questa macchina di grossa cilindrata dietro. Tra l'altro da segnalare una visita sospetta nel pomeriggio intorno alle 18. Sì, infatti era intorno alle 18, è capitata una visita sospetta, ma il fatto di questi tanti furti mi ha anche fatto prendere il numero di targa di queste due persone e fortunatamente speriamo che fossero loro. Ecco. Ecco.